Anticipa la futura crossover media di Suzuki, è la S-Cross avveniristico modello, almeno nelle attuali forme da prototipo, che andrà a sostituire la SX4 e verrà spedita a competere in un segmento molto affollato e da protagoniste di grande successo come Qashqai, Tiguan e Kuga. Non solo confezionata da una linea affascinante, la S-Cross offre un comfort di bordo di alto livello e disegnerà l'ultima versione del manifesto del marchio giapponese in materia di 4x4. La S-Cross verrà lanciata nella prima metà del prossimo anno.